Sono 11 i medici che si sono diplomati al corso di formazione per medici del 118 organizzato da Regione Marche e Asur. Questa mattina Palazzo Raffaello si è infatti svolta la consegna degli attistati di partecipazione ad un corso di formazione durato 4 mesi con più di 300 ore, svolte prevalentemente con esercitazioni e tirocini pratici e anche con una parte teorica in parte in presenza e in parte in e-learning. Abbiamo fatto anche quest'anno un corso per i medici che vogliono fare i medici dell'emergenza territoriale, medici 118isti, purtroppo rispetto ai numeri che avevamo a disposizione e il numero dei candidati che hanno deciso di partecipare è un pochino inferiore, anzi molto inferiore, quindi non abbiamo ottenuto quei 100 nuovi medici che possono essere utilissimi per la nostra emergenza territoriale e questo significa che ci riprepareremo a fare ulteriori corsi, dando l'opportunità a chi vuole fare questa bellissima esperienza di essere un medico dell'emergenza che soprattutto all'inizio dell'attività lavorativa ti forma e ti tempra per il lavoro del medico, quindi continueremo e soprattutto cerchiamo di contrattualizzare adesso questi medici perché possano andare a coprire quelle situazioni di criticità che abbiamo un po' su tutto il territorio della nostra regione. Sì, non è solo un pezzo di carta, è un attestato per l'impegno che questi medici dovranno svolgere sul servizio penso più importante, quello del 118, quello che salva vite, naturalmente senza tralasciare l'impegno e la professionalità di tutte le altre specializzazioni mediche. Nella nostra regione, come in tutto il nostro paese, abbiamo una grande carenza di questi medici, anche come pure nei pronti soccorsi, però stiamo facendo anche una battaglia, anche con il governo, con gli emendamenti in discussione nella legge finanziaria per riconoscere i trattamenti adeguati. Queste persone lavorano di notte, la domenica, Natale, lavoreranno, quindi credo che ci sia una distorzione proprio del sistema contrattuale. Ritengo che chi lavora di notte debba avere dei trattamenti aggiuntivi.